È stato fermato dai carabinieri il conducente dell'auto che la notte scorsa a Luna Circa in via Garibaldi a Pedaso ha travolto e ucciso Giampiero Larivera, 54 anni, e ha ferito un 24enne ad una gamba. L'automobilista Silvano Asuni, che per motivi ancora in corso di accertamento è finito con la sua vettura contro un gruppo di persone, dopo l'impatto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri presso la sua abitazione. A chiamare i soccorsi è stato un residente che, sentito l'impatto e le grida, si è precipitato in strada ed ha trovato Larivera ancora in vita e cosciente, ma si è spento poco dopo durante il trasporto in ospedale. Sul posto i sanitari della Croce Verde Valdaso, i carabinieri del radiomobile e della locale stazione, che dopo aver raccolto le prime sommarie informazioni, hanno identificato l'automobilista che da lì a breve è stato fermato. Le indagini procedono serrate per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario e i carabinieri stamane si sono recati più volte sul luogo dell'investimento, in particolare presso un'autofficina proprio su via Garibaldi, probabilmente per acquisire i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio, che hanno ripreso tutto l'accaduto. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima e l'investitore con altre persone avrebbero passato la serata insieme, prima in un ristorante di Pedaso, poi in un bar, Settimo Cielo, in via della Repubblica, a qualche centinaio di metri dal luogo della tragedia, dove poi ci sarebbe stata una lite per futili motivi con un gruppo di ragazzi giovani, probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo, e poi il tragico epilogo. La vittima era il nipote della bionda del famoso ristorante in via Aldomoro, vicino al luogo dell'investimento in cui lavora la mamma e che oggi è chiuso per lutto. Un lutto dell'intera Pedaso, sconvolta, che si interroga su cosa sia realmente accaduto stanotte, incredula del fatto che si sia potuto trattare di un omicidio.